segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te massimiliano pararari lei che studia la comunicazione della politica ci dobbiamo fidare delle parole di mario draghi le ricordo e mi aiuti in questo un quotidiano corsaro come l'identità uscito da meno di un mese in edicola che oggi titola draghi come sergio mai il bis in questa legislatura in tanti hanno fatto annunci perentori che poi sono stati smentiti dalla stato di necessità delle cose ecco è esattamente lo stato di necessità che lei evoca nel senso che a volte questi annunci queste dichiarazioni si trovano a dover innestare una sorta di retromarcia perché la situazione è molto grave e molto grave e lo si diceva anche prima in studio il contesto internazionale la crisi economica il caro energia le fibrillazioni dei partiti nel senso che il governo draghi è nato sulla base di un'idea fortemente auspicata e implementata dal presidente mattarella cioè quella di un governo di tutti o quantomeno di tutti quelli nella maniera più larga possibile che potevano starci per affrontare delle emergenze il punto è che le emergenze in parte sono state affrontate ma si susseguono secondo una sorta di stato di crisi permanente che dovrebbe indurre tutti gli attori a non farsi prendere dal colpo di caldo come diceva lei prima ma a mantenere i nervi molto saldi ed è chiaro che la formula draghi è una formula che sta solamente all'interno di un contesto di coalizione di unità nazionale perché il presidente draghi ha naturalmente una visione diciamo così delle sensibilità politiche come tutti i cittadini ma in questo momento rappresenta per l'appunto un'idea è una formula di emergenza che deve affrontare un contesto eccezionale è chiaro che se i partiti si sfilano oppure se i partiti continuano a lanciare degli ultimatum la navigazione del governo diventa impossibile e oltre a bruciare la carta draghi che è una riserva della repubblica non si sta facendo l'interesse degli italiani c'è tanta polemica finisco rapidissimamente nei confronti dei governi tecnici il punto lo diceva prima anche il sindaco di firenze il punto è che la politica è fondamentale naturalmente per risolvere i problemi ma nel momento in cui non riesce a trovare il bandolo della matassa diventa necessario chiamare delle risorse esterne ecco noi abbiamo una risorsa esterna importante se i partiti decidono invece di correre verso la campagna elettorale per governare una situazione che temiamo sarà di disastro e con tutto questo non va nella direzione dell'interesse generali di cui abbiamo bisogno allora adesso ho bisogno